Eccomi, 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 buonasera amici e amiche rosso-neri, e vai ragazzi, buona serata di questo venerdì 9 settembre 2022 ore 19.03 e buona giornata se mi vedi ovviamente di sabato 10 settembre 2022, il giorno, anzi la serata di domani di sabato ore 20.45 di Sampdoria Milan, il maestro di calcio Giampaolo, il maestro di calcio Giampaolo, l'unico sbaglio del duo Boban e Maldini, lo dico simpaticamente Capitan Maldini, è ovvio che praticamente ha profetizzato il Milan quando pareggia come se fosse una sconfitta perché è molto forte, ma noi della Samp ci proveremo, scusate, in tutti i modi di dover assicurare una buona prestazione anche se sarà molto difficile, ma vai Ciappairat, maestro di calcio, vai Ciappairat, vabbè, noi domani sera ci vediamo dopo la partita ragazzuoli belli, per cui entro le ore 23, 23.30 per il video reaction di quello che a mio modo di vedere ho visto della partita e voi mi iscrivete la vostra, come al solito, io vi abbraccio tutti ragazzi, grazie come sempre per il vostro seguito, partiamo a razzo. L'avete visto in copertina Sandro Tonali e il nostro grande Stefano Pioli, allenatore mister Stefano Pioli, il nostro grande anche Sandro Tonali. Allora ragazzi, io prima però voglio partire subito con una prefazione sulle AO, insomma io non so più come spiegarvelo, però molti di voi lo sanno, però lo voglio ricordare a quelli che forse non hanno ancora capito, io quando dico a voi, voi tifosi facilmente influenzabili, facilmente influenzabili, non dovete dar retta ai titoloni dei giornali, dei giornalisti, e per dirvi che oggi lupus in fabula, perché lupus in fabula oggi? Prima della Gazzetta dello Sport ha caratteri cubitali, con tutto il suo entourage, non lo so, da Andrea Di Carolo, dell'Audisi e compagnia bella, con rispetto parlando nei loro confronti, il titolo, il titolo abbastanza, diciamo, come lo posso definire, che dava da intendere ad altro, è quello sulle AO, perché ne fanno tanti di titoli in un giorno, però online soprattutto, le AO ha dettato le sue condizioni, secondo la Gazzetta dello Sport, e poi la ripresa anche da altri, ha dettato le sue condizioni per il rinnovo con il Milan, 7 milioni di euro netti di stipendio, in più il Milan deve pagare l'ammazzata che le AO ha preso in sentenza di poco tempo fa allo Sport in Lisbona, cioè 19 milioni di euro. Allora, prima di tutto siete imprecisi, perché le AO non deve pagare quei soldi, deve pagare praticamente la sua percentuale, la sua percentuale di praticamente sanzione pecuniaria allo Sport in Lisbona di 9 milioni di euro, circa, sono 9 milioni e qualcosa, e il resto lo deve pagare il Lille. Però siete doppiamente imprecisi voi giornalisti, voi giornalisti, come ha detto ieri sera, perché stavo cenando a tarda serata, ormai la mia vita è così, arrivo sempre a cenare in fretta e furia sul tardi. Mentre stavo cenando mi becco perché stavo facendo zapping su quella trasmissione che a me non piace questa trasmissione, però ogni tanto la seguo più che altro per vedere chi c'è come ospite, se qualcuno mi interessa, Michele Santoro, il giornalista, il telegiornalista Michele Santoro che ha detto, insomma, oggi i giornalisti sono solo dei comunicatori, ma il giornalismo vero e proprio oggi non esiste più. Confermo, 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 a mio modo di vedere il giornalismo vero e proprio oggi non esiste più. Comunicatori vuol dire questi leggono le notizie e basta. Siete degli imprecisi voi giornalisti, siete degli imprecisi. Leao non deve pagare 19 milioni di euro, deve pagare 9 milioni di euro. La sentenza, la sentenza a favore dello sport in Grisbona è stata impugnata da Lille, per cui tra ricorso, contro ricorso e straricorso, quando verrà sentenziato definitivamente cosa cavolo dovrà pagare Leao e quando, e anche il Lille non si sa, il Milan non deve pagare una mazza e poi anche per precisare, il Milan non è parte in causa. Per cui voi dovete stare belli tranquilli, fare quello che fate, cioè riportare le notizie e non approfondire e avventurarvi in cose che non sapete. Caro gentile vice direttore Andrea Di Caro, da lei sinceramente mi aspetterei un po' più di precisione. Comunque le mando un abbraccio, bocca al lupo sempre per il vostro lavoro. Ogni tanto prendete esempio dal Alex Cuore Rosso Nero 2.0, che come sentenziatore, ma io non lo dico come menagrammo, come gufaccio, con rispetto parlando nei confronti dei gufi che sono uccelli, rapaci, che io amo e adoro, ma io purtroppo ho questa sensitività. Quando dico una cosa succede, poi ditemene di ogni non c'è problema, ma io sono così. Occhio è, state attenti, sono più potente di qualsiasi altro. Si Pogba doveva chiamare me, sì vabbè. Allora, quando ho sentenziato nei confronti di un signore che non si è comportato molto bene nei confronti del Milan in questa spena passata sessione di calciomercato estivo, cioè un certo Renato Sanchez, io l'avevo detto. Renato attento perché quello che hai fatto non ti sei comportato bene, tutto torna indietro. Oggi cosa succede a Renato Sanchez? Lesione scusate, all'adduttore destro, tra dieci giorni una visita medica per vedere quali saranno le sue condizioni. Renato, nella vita si dice così, chi troppo vuole nulla stringe, ma nel tuo caso non ti sei comportato bene. Hai capito? Adesso sentiamo le notizie che riguardano il nostro Milan. Un grande applauso a un vero uomo, un vero giocatore che si chiama Sandro Tonali. Sandro, 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 Sandro Tonali, tu questo applauso te lo metti. Numero uno perché come ti sei comportato per rimanere al Milan, di fatti oggi in Milan ti è grato, ti ha raddoppiato nettamente lo stipendio, cioè da un milione e due, anzi doveva essere due milioni e mezzo di euro, ma il Milan è saltato a darti tre milioni di euro netti perché te li metti per ringraziare per quello che hai fatto, cioè rinunciando a una parte del tuo stipendio pur di rimanere al Milan, visto che dovevamo stare dentro nei conti per il famoso discorso frepre finanziario e quant'altro, che i tifosi milanisti tante volte si scordano, si scordano. Sandro, tu sei un grande, ha rinnovato oggi, ha firmato a casa a Milan il nostro Sandro Tonali per cinque anni, fino al 2027 e uno dei nostri. Sei grande, sei grande Sandro, impegnati sempre, forza e coraggio sempre. A proposito, ieri mi sono dimenticato, voglio mandare un grande abbraccio, i nostri ragazzi lo hanno già fatto ricordando nella vittoria del derby il nome di Florenzi, di Alessandro Florenzi. Io voglio mandare un grande abbraccio ad Alessandro Florenzi, ieri ho ricordato Florenzi, però non l'ho ricordato con un abbraccio come si doveva, questa volta lo voglio ricordare ancora con un grande abbraccio perché Florenzi ha postato un messaggio, guerrieri e non persone praticamente che si abbattono, questo sono sante parole, ma soprattutto perché c'è una persona che è sempre molto vicina a Sandro Tonali, anzi due persone, ma tutto il resto della nostra squadra, uno di questi molto probabilmente per un rapporto stretto di amicizia è Teo Hernandez che continua a dare un incoraggiamento ad Florenzi e anche Calabria. Molto probabilmente lo ripeto per rapporti di amicizia un po' stretti, ma comunque un grande abbraccio a Teo Alessandro Florenzi perché te lo meriti, te lo meriti, te lo meriti perché insomma a me è dispiaciuto il tuo infortunio, questo va detto, è una persona in gamba. Allora ieri vi ho lanciato una rivelazione che sul mercato di gennaio prenderemo, ci rinforzeremo con un giocatore e molto probabilmente forse un altro, adesso vedremo. Però il Cardinale da gennaio in poi avrà diciamo tra virgolette le mani libere, anche se molto più libere le avrà la prossima estate, però oggi inizia a girare la voce di quello che io vi ho anticipato ieri, però non vi ho detto il nome ieri, oggi lo posso dire perché la voce sta girando, di Noah Lang al Milan a gennaio. Voi potreste scrivermi, ma perché non l'abbiamo preso adesso? Lo ripeto anche se sono noioso, per fare prefinanziario, per chiudere i conti da 2022 in ordine, perfetto. Avete capito, zucchine belle? Vi mando un abbraccio a tutti. Allora oggi ha parlato Pioli per la conferenza stampa, prepartita di domani, ore 19 e 12, leggiamo cosa ha dichiarato Pioli. Penso sia arrivato il momento di Origi, ha bisogno di giocare, sicuramente un ottimo giocatore che ora sta meglio. Origi secondo me è veramente la carta giusta per domani, perché deve iniziare ad entrare nei meccanismi di gioco e lui dà molta profondità, lo si vede da come gioca. Se Origi entra in forma, ma non entrerà subito in forma domani, tra due, tre partite o dopo la sosta, sarà uno spettacolo. Su De Catteler dice Pioli, De Catteler sta facendo tutto ciò che gli chiedo, si sta inserendo sempre di più, anche lui ha bisogno del tempo necessario per conoscerci, ma è in crescita ed è sereno. Brahim ha agilità e brillantezza, su di lui conto sempre. Su Rebic dice, Rebic ha un dolore alla schiena forte che gli impedisce di allenarsi, non siamo riusciti a toglierglielo e non riesce a lavorare con la squadra. Poi Pioli dice, nessuno si azzardi ed avanzare altre ipotesi sullo stato fisico di Rebic. Su Adli dice, Adli è un giocatore di prospettiva, mi aspetto tanto da lui, ma ripeto, devo fare delle scelte. Lo vedremo quando lo riterò opportuno. Cioè praticamente lui vuole che Adli non si avventuri in... che non venga buttato a caso, ma che Adli riesca a entrare nei meccanismi di gioco. Secondo me questa cosa è giusta, però è anche vero che deve giocare. Poi sui tanti gol che il Milan ha subito, Pioli dichiara, qualche gol di troppo l'abbiamo subito, tutta la squadra deve migliorare, non solo la difesa. Martedì dovevamo fare meglio sul gol, dobbiamo migliorare la fase difensiva, anche se noi abbiamo una delle difese più forti. Però mister, se lei vedrà questo video, non so, qualcuno vede questo video, io avanzo un'ipotesi, un'idea che è mia personale. Io vedo molto bene in questo momento una difesa a tre, visto che dobbiamo un attimino mettere un muro più forte in difesa, nel senso Tomori e Kier Kalulu. Perché Tomori e Kier Kalulu? Perché l'ho visto praticamente durante la partita con il Salisburgo. Appena è entrato Kier diciamo che abbiamo messo un muro e ho subito percepito che quel muro era invalicabile. Per cui mister o chi lavora nel Milan o qualche giocatore, non so, tanto YouTube lo vedono tutti, so benissimo. Io so che Kalulu aveva visto uno dei miei video in passato, tanto è vero che un canale YouTube molto noto ha fatto un video montaggio sulla crescita di Kalulu, sull'esponenzialità di fattori che sono andati a determinare al Kalulu di oggi, cioè un Kalulu veramente forte. Kalulu ha visto il mio video, lo ringrazio, l'abbraccio e praticamente qualcuno lo può vedere. Provate a mettere una pulce nell'orecchio a Mr. Pioli, ma anche se Mr. Pioli non ha bisogno dei miei consigli, ma io una cosa la butto lì. A mio modo di vedere Tomori, Kier, Kalulu sono perfetti, sono una diga letteralmente invalicabile. Poi uno mi può dire, vabbè ma comunque non è che si rischiano di pestarsi i piedi e dopo come affrontiamo, ad esempio c'è Pioli che dice di Pobega che potrebbe diventare trequartista. Ragazzi io Pobega lo vedo, lo vedo come trequartista, questo lo devo dire. Comunque vedremo, io vi mando un abbraccio, forza mia, sempre comunque comunque noi ci vediamo domani, è uno spettacolo. Ciao!